Il motivo è molto semplice, c'è una condivisione di fondo rispetto all'iniquità di questa manovra che sposta il peso esclusivamente sempre sui pensionati, sui lavoratori, già in una situazione difficile per la crisi che stiamo vivendo e quindi è un problema grosso. Pur mantenendo fermi i saldi necessari per il riequilibrio del debito pubblico, è necessario spostare in termini qualitativi il peso della manovra anche su fasce di persone che possono di più farsi carico. Quindi da una parte recupero anche dell'evasione, dall'altra crediamo che anche la politica deve dare un segnale forte perché non è possibile scaricare sui più deboli e non dare nemmeno un cenno di riduzione dei propri costi.